Sabato mattina, nell'Aula Consilare del Comune di Agropoli, si è svolta la conferenza stampa, tesa a fare un resoconto dell'attività svolta dal Comando di Polizia Municipale nel corso dell'anno 2018. Sono stati in totale oltre 65.000 gli atti trattati dal Comando, delle più diverse tipologie. La fanno da padrone certamente quelli relativi ad accertamenti per violazioni al codice della strada. Il corpo della Polizia Municipale di Agropoli molto spesso è additato in senso negativo. E capisco anche, ci sono anche dei motivi, però quello che abbiamo cercato di fare stamattina è spiegare l'enorme lavoro che la Polizia Municipale svolge. I numeri testimoniano di questo grande lavoro ed era giusto rappresentare alla cittadinanza che il corpo della Polizia Municipale di Agropoli ha un grande numero di impegni e li porta a termine con ottimi risultati. Quindi cominciamo a dare anche i meriti a chi lavora, a chi si impegna così tanto. E non è tanto il numero dei verbali, che sappiamo sfiorano i 13.000 circa, perché sono stati elevati. Non è quello il segnale. Anzi, noi ci auguriamo che i verbali nel tempo diminuiscono, perché non c'è voglia di sanzionare il cittadino, ma i numeri, l'enorme numero di servizi che svolge. Voi pensate, oggi abbiamo rendito contato che la Polizia Municipale svolge 60 servizi per conto del Comune, 60 attività svolge per conto del Comune. E quindi il lavoro è enorme, dai rapporti con le attività giudiziarie, dalle indagini, dalle attività di carattere amministrativo, quali quelle urbanistiche e ambientali, quali il controllo della strada, quali la sicurezza, insomma, è molto, molto grande il lavoro che viene svolto, quindi era giusto segnalarlo e far capire ai cittadini che ci sta da parte loro, da parte della Polizia Municipale, un grande impegno. Effettivamente sono molto soddisfatto di quello che siamo riusciti a fare in pochissimo tempo, tra l'altro, questa mattina qua. Cioè quello di fornire i dati statistici che parlano da soli, dell'attività svolta durante il 2018. Ma direi che l'analoga attività è stata svolta anche negli anni precedenti. Purtroppo per rapidità di cose abbiamo fornito solità del 2018. Ma è importante che queste cose vengano conosciute dall'opinione pubblica. E io per questo ringrazio tutte le tessate giornalistiche che stamattina sono state qua, perché è tramite loro che queste informazioni possono aggiungere a tutta la città. È importante perché servono innanzitutto a sfadare un luogo comune, che è quello che di molti ritengono che i vigi urbani non facciano fino in fondo il loro lavoro, che non siano impegnati. E dai dati che abbiamo fornito viene fuori tutt'altro. Addirittura i vigi urbani sono costretti a rinunciare a fede, riposo, eccetera, pur di garantire la loro presenza, pur di garantire la presenza per affrontare problematiche che ogni giorno si manifestano nella città.